Il 15 febbraio si celebra la giornata mondiale contro il cancro infantile, un modo per promuovere temi e sfide per una malattia con un impatto devastante sulla società. Nonostante i progressi compiuti dalla ricerca, il cancro infantile continua ad essere la principale causa di morte correlata ad una malattia non trasmissibile nei bambini dopo il primo anno di vita. Dei circa 400.000 casi diagnosticati, la maggior parte vive in paesi a basso e medio reddito. Qui solo il 30% dei bambini sopravvive rispetto all'80% dei paesi ad alto reddito. Per questo l'OMS ha istituito questa giornata che verrà sensibilizzata dalla FIAGOP che rappresenta le comunità delle associazioni dei genitori e dei bambini oncoematologici. Tra queste l'Agbe che domani per l'occasione metterà a dimora un albero di melograno simbolo di energia vitale. I dati parlano chiaro, ogni anno si ammalano 1400 bambini e 800 adolescenti. Quindi ho detto tutto, insomma c'è da fare, c'è da rimboccarsi le maniche e siamo qui tutti i giorni sul pezzo cercando di dare una mano a chi ha bisogno. Dal 15 al 22 dona una sacca, una sacca di sangue. Quindi per chi volesse donare, lì al nostro centro trasfusionale è a disposizione. Perché? Perché il nostro reparto ha bisogno di sangue. Ha bisogno di sangue, sapete benissimo che le malattie oncoematologiche si abbassano le piastrine e i globuli bianchi per cui abbiamo bisogno di sangue. A breve partirà anche questo nuovo progetto, questa nuova palazzina per ospitare sempre più famiglie bisognose. Io conto, lo dico, non posso dare una data precisa, però conto a breve di inaugurare la nuova casa alloggio con altri 5 appartamenti a disposizione delle famiglie bisognose. Quanto è difficile comunque tutti i giorni lavorare in questo modo, con la pandemia soprattutto, che ha messo un limite ai rapporti interpersonali. Guardi, questi sono stati due anni terribili per tutti, lo sappiamo, però devo essere sincera. Le persone ci seguono, le persone che ci vogliono bene ci seguono. Noi siamo un'associazione formata da famiglie, famiglie che si vogliono bene, che fanno solidarietà, che si aiutano a vicenda. E tutto lì, insomma, devo essere sincero, devo ringraziare tutto il popolo pescarese, abruzzese per il grande aiuto e la solidarietà.